I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Un grande ritorno per te Gigi sul palco del framesi International Congress, che quest'anno è stato molto pop. Come si sposa il concetto di italianità con hair trend in continuo cambiamento ispirati da mode provenienti da tutto il mondo? Sicuramente l'International Congress è una grande opportunità, una grande opportunità dove poter interpretare quello che è il made in Italy. Sicuramente le tendenze, ciò che sono gli hair trend che arrivano da tutto il mondo, noi come stilisti, stilisti di Italian Style, di Energy, del marchio framesi, non possiamo non essere attenti. Sapete quanto il cinema, la moda, la musica, tutto viene condizionato e condiziona in assoluto il nostro lavoro, quello che sono poi i colori, i tagli, gli styling. Automaticamente noi dobbiamo essere in assoluto cambiamento, in assoluta ricerca. Io e un collega che volesse partecipare al prossimo International Congress direi che questa è un'opportunità dove poter assolutamente condividere anteprime, moda, tutto ciò che può essere condivisione e da poter riportare assolutamente già da domani all'interno dei vostri saloni. dove si mette assieme un connubio di capacità nel poter vedere quelle che sono le nuove sfilate ma soprattutto condividere con tantissime persone che arrivano da tutto il mondo un concetto di moda ma allo stesso tempo anche di vacanza. Assolutamente vi aspettiamo al prossimo International Congress. Grazie a tutti.